domani la ripresa e la preparazione ma è sempre il mercato a tenere banco per il Catania ma anche per tutte le altre squadre siciliane. Concluse le feste domani a Torre del Grifo sarà giornata di ripresa non solo per la squadra. Lucarelli ritroverà i dirigenti con cui è stato in contatto negli ultimi giorni per definire le strategie. L'obiettivo è di avere qualche rinforzo da schierare già al Via del Mare nella sfida contro il Lecce alla ripresa del campionato. Caccavallo e Dalloglio sono i due nomi caldi per arrivare in Sicilia. Caccavallo ha già dato l'ok e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche quello del Venezia proprietario del cartellino del giocatore. Per Dalloglio invece c'è da vincere la resistenza di Cellino. Il giocatore milazzese d'origine vuole vestire il rossazzurro e questa può essere la chiave per convincere la dirigenza bresciana dove il direttore sportivo è una vecchia conoscenza siciliana, Nicola Salerno. In uscita le più imminenti da operare sono quelle di Calille e Giorgiovic, quest'ultimo piace all'Alessandria. Cessioni in vista anche a Siracusa, Tino Parisi è in uscita, difficile va dalla Leonzio, piuttosto l'entourage del giocatore sta lavorando ad una pista che porta in Serie B. Proposti al Siracusa Madonia, oggi alla Francavilla e Martignago del Pordenone. Alla Leonzio c'è grande fermento in entrata ed uscita, ai saluti Tavaresce, la dirigenza bianconera segue Foggia del Teramo, i Genchi del Monopoli dove in arrivo Max Barisic dall'Andrea, via Catania, altro nome, è quello dell'attaccante Campagnacci della Siena ma c'è anche il Trapani sull'ex regine Benevento. I Granata hanno virtualmente chiuso con il Parma l'accordo per l'arrivo di Corapi a centrocampo e adesso si concentrano sugli esterni d'attacco come scarsella della Cremonese.